Il 2019 si sta avvicinando ormai alla conclusione, è tempo anche di tracciare il bilancio di quella che è stata l'attività amministrativa fino adesso. È stato un anno impegnativo, un anno sicuramente che ci ha visto impegnati su molti fronti. Parto dalla parte finale, il 23 di dicembre il Comune di Vallecrosi approva il bilancio di previsione 2020. Sembra un dato di fatto, semplice, considerate che nella storia di Vallecrosi non era mai avvenuto. Per cui in realtà la sintesi dell'intero anno del 2019 la racchiudo nell'organizzazione. Noi ci ha dato questa valutazione partendo da quello che era il nostro programma elettorale, che nel 2019 l'abbiamo portato avanti con molta abnegazione lavorativa e che ci ha permesso in un solo anno, quindi un solo anno di amministrazione, perché adesso dicembre entriamo nel secondo anno, di poter ottenere oltre dieci finanziamenti pubblici basati su bandi, basati su progettualità, basati su quello che è stato la squadra. Infatti io sono felicissimo e contento della giunta, della maggioranza, dell'intero consiglio comunale, compreso quello che sono le attività con l'opposizione, ma fan parte della democrazia in Italia, e anche totalmente di quello che è la macchina amministrativa, il segretario comunale, i dirigenti, i funzionali, perché troppe volte sento parlare a livello nazionale in modo negativo dei dirigenti, dei funzionali, invece devo dire che a Vallecrosi a questo clima è un clima di totale condivisione e soprattutto di collaborazione all'esercizio delle funzioni e alla realizzazione del progetto amministrativo, che ha visto così completo la riflessione, vedere l'inizio di importanti opere pubbliche che sicuramente proseguiranno anche negli anni a venire.